Mustafa, nome di fantasia, ha 34 anni. Alla domanda che lavoro fai lui risponde il parcheggiatore abusivo perché ho perso il lavoro un anno fa e questa è l'unica alternativa che ho. Parla bene l'italiano, Mustafa si capisce che è in Italia da molti anni. Ora cerca di sopravvivere così, in uno dei grandi parcheggi del centro di Ravenna. Che lavoro fai? Ma io sono parcheggiatore abusivo, purtroppo sì. Perché sono senza lavoro? Per quello. Quanto tempo fai questo lavoro? Ma quanto questo lavoro l'ho cominciato a fare da poco tempo fa, più o meno quasi un anno anche, manca anche un anno. Hai sempre fatto questo lavoro o prima facevi anche qualcosa? Io ero operaio, sono senza lavoro per quello, faccio quello. Io ho lavorato abbastanza per quello, sono senza lavoro per quello. Senti, da quanto tempo sei in Italia? Ma io abbastanza, otto anni più o meno. E come ti trovi qui a Ravenna e in Italia in generale? Ma adesso veramente sono qua, perché sono senza lavoro. Mi trovo abbastanza bene, ma potrebbe andare meglio. E qui vivi insieme ai tuoi amici? Sì, sì, vivo con gli amici, sì, sì. Che vita è? È una vita difficile? Ma difficile abbastanza, abbastanza difficile. Perché sono qua senza lavoro, senza famiglia, solo con gli amici, fatti tutto da solo, mangiare, tutto lo faccio noi da solo a casa. Senti, ti è mai capitato di trovarti in quelle situazioni in cui arrivano i controlli delle forze di polizia? Sì, sono venuti qua a Carabinieri, abbiamo stato costretto a portare noi tutti, anche i nostri soldi, anche tutti. I Carabinieri sono venuti qua, una volta sì. E in quei casi cosa fate? Scappate? No, abbiamo scappato alcuni, però hanno preso, di più gente l'hanno preso allora, perché hanno stato costretto tutti, usciti per non far uscire nessuna gente, portato soldi, preso tutte le nostre cose che noi avevamo insieme. Poi però vi hanno tutti rilasciati, insomma, vi hanno solamente controllati i documenti? No, vi rilascio tutti, poi noi abbiamo preso l'avvocato. L'avvocato cosa vi ha detto? No, l'avvocato sta trattando con loro e dobbiamo andare in un tribunale della pace. E sì, sì. Sei preoccupato? Ma io no, non sono preoccupato, io sono tranquillo perché sono qua, io finché rimando un po' vado giù nel mio paese, veramente. Io sono tranquillo, non sono preoccupato. E purtroppo non c'è nel lavoro, lo so che è duro per tutti, anche per gli italiani, purtroppo è così. Avvenati come sono con voi? Ma alcuni sono bravi, alcuni un po' così, un po' così. Cosa vi dicono? Eh? Cosa vi dicono? Ma alcuni ti trattano bene, alcuni malissimo, veramente, purtroppo è così. Eh sì. Com'è iniziato a fare questo lavoro? Conoscevi qualcuno che lo faceva già? Io sono qua dei fratelli che sono di qua per quello, io ero da un'altra uscita, ero senza lavoro, poi mi hanno detto vieni a vedere qua, io sono passato qua l'estate a Ravenna, al mare, poi dopo ho visto che loro stanno facendo quel lavoro, stanno guadagnando qualcosa, io sono venuto qua a farlo con loro, per quello. E quando lavoravi al mare cosa facevi? Ma il mare vendevi in giro, eh sì sì, ho già il portofoglio. Quindi voi fate anche questo doppio lavoro, d'estate magari state più al mare che c'è più gente e d'inverno qui ai parcheggi? Eh sì, è così. All'inverno, per forza dobbiamo rimanere qua, perché qua vengono gente, tu li aiuti a trovare i parcheggi, altri ti danno qualcosa, altri niente. La mancia più grossa che vi lasciano quant'è di solito? Mmm, potrebbe capitarsi che alcuni chiedano 5 euro, veramente. Ti danno 5 euro, potrebbe capitarsi, ma però poco per volto, non tanti. E invece a volte la gente non vi dà niente? A volte non ti dà con niente, i genti, ci sono dei genti che vogliono che tu non fassi più quale lavoro, loro ti danno 10 centesimi, anche 20 centesimi alcune gente te le danno. Meglio 20 centesimi che niente? Eh sì, meglio di niente, però ogni tanto ci sono troppo difficili a trovarsi i parcheggi, noi l'abbiamo trovato per alcuna, almeno. Ehi, ma li viti, ma veramente mi dispiace, io non ce l'ho, non ce l'ho niente, però... Non ci credi? No, non ci credo, non è vero. Comunque con un lavoro così riuscite a campare, a sopravvivere? Campare, più o meno. Pagare l'affitto sì, mangiare sì, risparmiare soldi no. Non ci guadagno mica, ci guadagno solo per vivere.